Facciamo qualche valutazione perché le amministrative sono sempre importanti, in questo caso abbiamo anche vissuto amministrative sui generis, visto il clima settembrino. Hai detto già tutto sui risultati, qualche ulteriore aspetto più squisitamente politico ma anche personale, ad esempio i trionfi che hai già giustamente citato. Stefano Bellaria di fatto ha espugnato Somma Lombardo, è vero che in quel caso i suoi avversari vedevano un centrodestra diviso, ma non è stata una spaccatura che abbia fatto davvero la differenza. Il risultato personale e politico di Bellaria premia questi primi cinque anni da sindaco e lo consacra indubbiamente come un volto molto popolare e molto apprezzato da un elettorato probabilmente anche trasversale. Diversa la materia su Luino, su Luino il centrodestra ha fatto uno scivolone epocale su cui evidentemente dovrà aprirsi ai vertici delle segreterie una seria riflessione. Sappiamo che Luino è andata per conto suo fin dall'inizio, i vertici provinciali dei partiti di centrodestra per la verità hanno fatto carte false per ricucire lo strappo che si era venuto a consumare e non ci sono riusciti. Questo è il risultato. Enrico Bianchi, persona assolutamente corretta, degna, protagonista di una campagna elettorale dai toni moderati e molto concentrato sui programmi, merita questa vittoria, ha strappato un risultato storico, però è stato molto aiutato da questa spaccatura che non ha diviso il fronte in due, bensì in tre, perché Alessandro Casali ha corso per la Lega, Franco Compagnoni per il resto del centrodestra partitico, ma poi c'era Furio Artoni che ha ottenuto un risultato di tutto rispetto per una lista civica, un po' un outsider, portare a casa 840 voti circa, tutti rosicchiati dai partiti di centrodestra, c'è poco da fare. È un risultato che deve aprire un'ulteriore riflessione sulla capacità di coinvolgimento, sull'arte del dialogo, del confronto e della abilità nell'evitare per quanto possibile strappi che poi si risolvono con queste debacle. Lui in una città importante che dopo tanti anni volta pagina e guardate che il consigliere più eletto resta Andrea Pellicini, quindi dal punto di vista personale il sindaco uscente ottiene una sua gratificazione, però in una ex maggioranza che da oggi diventa opposizione. È veramente una situazione paradossale che cristallizza un momento di difficoltà evidentemente per il centrodestra in questo territorio. Dopodiché francamente ci sembra un po' abbassata l'onda Salvini, possiamo dirlo, reduci dall'apertura ufficiale delle sedi di Lega Salvini Premier, insomma il capitano non sembra avere più la presa di un tempo, lo abbiamo già visto con i risultati alle regionali, specie in una partita molto importante come quella della Toscana, ma anche qui in provincia di Varese, un territorio a lui particolarmente vicino, la Lega non porta a casa granché. Un plauso alla sindaca di Lunate e Cieppino, un plauso al sindaco di Origio, ma per il resto c'è poco da raccontare sul fronte leghista. Cos'altro aggiungere? Marco Magrini ha citato a Masciago Primo diventa sindaco, Magrini è un politico navigato, è consigliere provinciale, è già stato sindaco a Cassano Valcuvia, ora ottiene questa fascia tricolore nel piccolo e bellissimo paese di Montagna, può essere che nella sua strategia di lungo termine ci sia anche un vantaggio in chiave provinciale, però staremo a vedere perché tanti di questi passaggi sono ancora prematuri. E poi chiudiamo la riflessione su Saronno, Saronno va al ballottaggio, sarà un ballottaggio difficile, sarà un ballottaggio difficile perché noi come tu ricorderai abbiamo chiesto ai candidati in campo cosa avrebbero fatto in caso di secondo turno, non tutti ci hanno voluto rispondere, però il candidato di 5 Stelle ha detto chiaro e tondo che se avesse dovuto scegliere qualcuno avrebbe scelto il centro-sinistra, quindi Augusto Eroldi. Pierluigi Gilli sembra non essere propriamente in linea con la posizione del sindaco uscente, insomma basterebbero questi due per far pendere la bilancia dalla parte del centro-sinistra e anche in questo caso costare uno smacco notevole a un centro-destra che in questo momento ci sembra bisognoso di una riflessione di ampio respiro.